ok benvenuti per la sessione di mira ciao a tutti ciao ciao mi ha allora prego con i punti sì perché non li hai più allora stress e calo di energia fisica e psichica se proprio così sono iperattiva iperattiva non mi posso fermare di fare le cose e però quando è successo e coincidenza di qualche evento che è successo insomma è sempre stata così no sì sì sono sempre stata così come è come una disperazione di essere perfetta per perfezionista nel mio lavoro nella mia vita lavare tutto tirati è così però adesso mi sento sfinita proprio non riesco a organizzare a dedicare a me si puliscono spiro tutte le cose mangio quanto posso meglio però comunque mi sembra che non sono equilibrata ok e stress ovviamente anche come provoca 2 paura di dormire di mangiare seduta cioè sempre il movimento o essere sempre punto di corsa stimi ho paura di dormire proprio di addormentarmi perché come se posso svegliarmi più e quando mi sveglio proprio mi gira la testa cioè no che mi gira proprio la testa ma non vorrei non so è pesante di pesante il rischio è molto pesante e mi spavento cioè siccome quando sono chiamata di notte o per lavoro e lavoro allora subito e mi trema tutto il corpo il cuore va fa molto forte ok questo ha iniziato da un anno da un periodo di tempo preciso da quando fai questo lavoro sicuramente no sì sì adesso nell'ultimo tempo da cinque mesi sono così spaventata di notte ok quindi quanto dormi più o meno come ore non mi rendo conto perché dura tanto finché mi addormento mi devo farmi un caffè o però adesso non sopporto più il caffè cioè il caffè per dormire sì perché della stanchezza non riesco a dormire perché tutto il giorno sono iperattiva e per dormire devo bere il caffè perché sono troppo strana quindi la penso che la pressione va troppo giù sono sfinita e che vorrei sapere che effetto ha su di me questo caffè perché sono esasperata non vuole più bere caffè e ne fumare ho cominciato a fumare da una settimana tanto tanto da quando prenotando la sessione e offre a un fumare fanno quelle due ore che usciva fuori ma non non è la giornata ok quindi dalla sessione prenotata è iniziato a fumare molto di più sono stata in qualche modo attaccata proprio delle persone che sono intorno a me e poi isata e tenuata si estremate ti hanno ti hanno portato all'esaurimento esaurimento a cui le persone per cui lavori o in generale e per quel lavoro perché hanno bisogno sempre della mia presenta però ai cambi hanno dato un cambiamento dalla prenotazione della sessione si tutto è peggiorato in generale aggressività ti proprio ok in relazione con un uomo scappi quindi quanto questo punto è il fatto che sei sola si si scappò perché forse per il mio ideale di fare questo lavoro voglio tenermi proprio ma era impegnata i perché ho dedicato tanto tempo alle relazioni non è andata nessuna buon fine ok chiamiamo il disincarnato che tua sorella morto non mi fa sì io mi sono presa cura di lei per quasi un anno finché è morta di cancro quindi vorrei sapere con me ok mi cade tutto oggi ok e secondo me è un punto molto interessante che ci dicevi prima fuori dalla registrazione sei molto generosa anche per strada inviti delle persone a cenare insieme in pranzare insieme un po per non restare sola un po perché magari hanno bisogno di mangiare ok ti piace fare questi regali tu richiami sì ma anche sconosciuti nomi proprio non importa chi sono mi piace guardare le persone quando sento che hanno bisogno è come se mi attirassero e trana questa cosa so che nessuno lo fa ma io sono proprio pronta sì se ho soldi o qualcosa subito vado non mi fermo un attimo a pensare bene bella 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 questa cosa non siamo molto bene e basta i punti sono finiti però voglio aggiungere qualcosa dei sogni magari c'è qua adesso qua in italia ho visto come due porte grandi a più c'è proprio non vedevo più una soluzione e ho perso anche il contatto con i miei figli cioè no hanno paura che io non posso avere una casa dove abitare quando starò vecchia c'è hanno paura di come si non lo sto da dove hanno questa paura perché io non sento io non ho mai avuto nemmeno il senso della morte quando mi chiedevano mamma ma tu morirai ho detto e non morirò mai in questa roba non fa parte di me non sono ma non ho niente non posso pensare quella cosa non per paura e proprio perché tempo che non esiste la morte così ok sei in contatto con i tuoi figli sì siamo ma mi ripetono sempre la stessa cosa mi metti tivi a soldi io non sono il tipo per perché quando sarei vecchia devi prenderti cura di te mi sembra che possono aiutare loro che sono i figli no poi è meglio che cresciamo insieme ci aiutiamo adesso oggi finché siamo insieme invece che pensare a domani al domani ecco io sono oggi parlo con te oggi voglio amare oggi voglio dirti tutto perché il modo migliore secondo me di vivere alla fine di ricordo qui è il grano così è il più importante per me ok mia iniziamo chi disattiva il microfono ma che prima si mette in posizione e ci sentiamo dopo ma dopo bene sabrina allora come sempre conto da 5 a 1 e ti connetti meglio e più profondamente a mia 5 4 bene no dimmi se la vedi si è dall'inizio del conteggio che mi vedo lei la sua ps la sua essenza che mi dà le mani e sorride questa volta è lei proprio nella fisionomia di oggi si presenta così la vedi serena se è in facendo fa questo gesto con le mani che me le mette davanti per toccare le mie come per termine autorizzazione a vedere stava toccando le mani senti a quanto vibra anche 5 miliardi e mezzo ok psp in equilibrio ps 57 per cento e consapevolezza che livello 153 ok valori molto alti senza un subito causa esoterica della grande generosità e disponibilità di mia è come se lei allora adesso sto vedendo una serie di vite come un film che scorre davanti ai miei occhi e vedo mi mostra diverse vite è come se mi stesse rispondendo lei però mi stacco per vedere anche quello che vedo io quindi entrambe le situazioni mi fa vedere diverse vite ed è come se lei avesse un bagaglio abbastanza pieno diciamo di esperienze per essere arrivata a un punto evolutivo di dire io ho compreso determinate cose e quindi posso metterle a disposizione per chi vuole per dare le informazioni compreso questo è quello che che vedo questo questo è giusto questo è bello ma lei soprattutto dovrebbe lavorare sul suo percorso cosa risponde quello che dice lei è che quello che succede queste sue azioni è come se riempiono qualcosa dentro di sé perché fondamentalmente è come se siamo tutti egoisti nel senso che se una persona fa un'azione è vero che la fa anche per per dare per l'altra persona ma è perché in realtà ciò che ne trai è il fatto che si sente bene lei facendo quell'azione quindi la fa per egoismo personale non sono spiegata perché la fa fare bene per esatto quindi c'è il discorso che per lei è molto importante bello che aiutare gli altri ma in realtà è una cosa che le serve a lei per perché le fa stare bene a lei quindi è una cosa che fa per se stessa in realtà non lo fa per gli altri ci sono diverse vite vediamone una è una vita dove è molto benestante vedo una vita dove lei è la vedo vestita con un vestito siamo nel 1500 1500 circa rinascimento vedo è vestita con un vestito molto bello dorato e con dei capelli raccolti come a quei tempi con una come una piccola coroncina un diadema diciamo così però è come se fosse una figlia di un di una famiglia benestante molto benestante in questa vita e in questa vita lei abita in un palazzo con la sua famiglia e altri componenti della famiglia e vedo che mi sta mostrando che lei aiutava molto parlava più che aiutare a livello economico in questo caso mi fa vedere che aiutava a livello morale le persone i serviti chiamiamoli così di dell'epoca insomma le persone che lavoravano noi le persone che collaboravano all'interno della del palazzo quindi gli stava molto vicino se la porta dalle che paese era in orvegia altra vita la sua parte subliminale sa quale suggerirti e ti mostrerà quella più importante a livello 2 mi mostra adesso vedo lei che si è trasformata in mesi mi fa vedere indiana indiana d'america indiana se la vedo con semina alzola dimostra questa scena la vedo con dei capelli lunghi neri con un vestito di pelle marrone fatto di pelle l'animale che vive in una è sempre donna anche in questa vita che vive in una capanna costruita dalla si e accudisce dei bambini ne vedo 4 4 bambini con un compagno una persona che marito insomma compagno che sta con lei che lo vedo che va a caccia e e porta il cibo a questi a lei a questi bambini però quello che vedo di differente in questa vita è che è molto molto più sofferente cioè per esempio adesso mi sta mostrando una scena dove lei piange piange perché non riesce a comprendere già qui il senso di tutto questo cioè perché è così complicato perché è così difficile vivere mangiare procurarsi da mangiare e in questa vita lei comunque molto impegnata la vedo anche un villaggio molto impegnato a fare delle le lavora le pelli ogni ogni persona di questo villaggio come se avesse un ruolo il suo ruolo per per far sì che il tutto il villaggio possa vivere più o meno insomma bene tra virgolette il suo ruolo è quello di lavorare le pelli degli animali per fare dei vestiti quindi questa vita è molto impegnata per fare tutto questo per per i bambini per il suo ruolo da da sarta diciamo così e però la vedo in mi mostra dei momenti in cui lei si accovaccia nella sua tenda e piange non comprende dice come si dice ma perché che cosa sto facendo che cosa qual è il senso di tutto questo che senso a vivere così ok la vita peggiore all'opposto allora la vita peggiore mi mostra era una strega quello che vedo è che era una siamo nel medioevo era una stella e viene viene uccisa in che modo si sa viene bruciata no perché allora in realtà quello che vedo è che lei a livello energetico esoterico aveva delle visioni è come se aveva dava delle degli aiuti in questo senso lei vede lei vedeva le persone in questa vita le persone andavano da lei e lei è come se vede se avesse delle visioni toccando le persone di di quello che sarebbe accaduto non accaduto comunque della vita delle altre persone in realtà erano delle ad oggi come se fosse una medium sono una telepata una media un qualcuno che comunque aveva una visione all'epoca venne comunque presa come una strega perché quello che accadeva cioè quello che lei diceva a delle persone e spesso e volentieri poi accadeva anche delle delle situazioni non positive per la persona e quindi venne emarginata considerata strega strega in quel senso la strega era una persona legata al male diciamo non è non come quindi la vita peggiore solo perché c'è un epilogo finale drammatico mente si alzandoti sopra la linea temporale della storia umana anche se ci sono tante linee temporali quali entità vedi nell'epoca del medioevo e quanto lo vedi lungo quanti secoli o anni allora dal mio punto di vista l'entità che vedo sono differenti le prime che ho visto sono stati dei diavoli primo secondo universo secondo universo le prime che ho visto sono stati dei diavoli proprio come lì li conosciamo insomma a livello l'immagine oggi io ho visto diavoli e falchi ok va bene è interferito allora vedo subito iedl ne vedo due soli vedo 2 dl 1 e al livello di testa che comunque influisce sul discorso emozionale quindi a livello di ciò che pensa e un altro lo vedo all'altezza della della pancia un pochino più giù sulla pancia entrano e escono comunque come se avesse provocasse anche dei disturbi a livello di pancia intestinale non so ma come proprio uno so non vedo una sorta di sofferenza qui poi vedo degli umanoidi allora mi è apparso un umano un essere che ha un insettoide però umanoide c'è il corpo umano umano il corpo con la fisionomia umana però il viso come un insetto un insettoide un insettoide si ma noi negli attori cavalletta un amanti da una mosca la più a viso più di mantide però il corpo alle le braccia come un insetto dire zampe però il corpo c'è il busto e le gambe come un umano un umanoide unicolino è apparso questo diavolo questa sorta di diavolo di diavoletto verso sopra questi umanoidi sopra sopra vedo la l'aquila che è audino con la con lo vedo senza un ala proprio oggi vedo così abbastanza provato e poi sopra ancora una scena particolare vedo e zeus seduto su un trono con poseidone seduto c'è seduto in piedi con la sua pinna in realtà perché finisce il corpo da umanoide con la sopra di una teresa sì esatto e li vedo accanto un accanto all'altro vicini che stanno bene anzi male perché vuol dire che c'è una collaborazione tra poseidone e zeus quindi primo e secondo universo insieme d'altronde c'è un diavolo quindi ci sta va bene ci sono degli impianti eterici cuore all'altezza del cuore vedo un canale come se fosse un foro tramite il quale loro controllano comunque controllano vedono che cosa succede a livello emozionale nelle sue azioni nelle sue azioni buone di vibrazione alta e sulla sulla testa vedo un quello che spesso vedo quando troviamo l'alcol la connessione col secondo universo come se ci fosse un canale si un canale che collega e lo vedo direttamente a posidone quindi questo lo vedo qui però è più che un impianto vero e proprio perché un sia un canale tubo se pensavo un tubo tunnel si qualcosa sul sull'apparato genitale l'ovaio all'altezza dell'ovaio e dei pallini di ferro messi lì messi da vero scopo di donne per semplificare no e zeus mantidi vedo nelle abduction per abbassare il suo livello di energia vede come se bloccando la parte tenendo più sotto controllo l'apparato genitale femminile come se a livello vibrazionale la doll l'essere femminile abbia meno energia bloccando quella parte poi vedo come se dalle ginocchia in giù verso i piedi mi si mostrano come delle vene varicose tra li vedo come se sono non bene varie cose ma proprio delle come se fosse messo un liquido qualcosa per tenerla più pesante per far sì che lei sia più più stanca e dia comunque la dia come quella cosa esatto al discorso della della sua frenesia lavorativa comunque dei suoi impegni e basta ok il progetto che riguarda mica ha un nome o due nomi mi spiego è un unico progetto con collaborazione tra zeus e poseidone o zeus ha un progetto poseidone un altro progetto vedo run run corre vai quindi quando loro uno solo quando me l'hai chiesto ho visto proprio scritto alla parola r ranno un unico sole r m perché cosa vuol dire che nel senso qual è la finalità del progetto come se la finalità del progetto sia quella di portare la la ps la via la persona a non fermarsi mai per evitare il contatto con se stessi e quindi per bloccare la propria evoluzione personale soprattutto in persone come lei nel senso con persone che comunque sono hanno già un buon livello di una predisposizione per apprendere informazioni più più facilmente degli altri come se a livello mentale lei sia più pulita io vedo questo cioè io vedo le le informazioni che che lei apprende la sua consapevolezza che accresce che fluisce in lei in maniera più facile perché è come se a livello mentale sia più libera sia più più libera avesse meno blocchi e quindi le persone come lei sono quelle che appartengono a questo progetto in quanto devono essere impegnate per evitare che possano fermarsi e a crescersi perché se le persone facessero questo diventerà un problema questo interessa a zeus immaginano ma invece nettuno che vuole vuole tornare vuole venire qua dice perché perché secondo l'iverso si sta chiudendo allora mentre me lo diceva come se avessi visto con una sorta di secondo universo con un buco nero proprio che fa questo che si che si diventa sempre più la superficie diventa sempre minore e perché è come se lì non ci sia più spazio non ci sia più più modo di prendere energia questo è quello che dice e vorrebbe trovare una modalità per attaccarsi qui diamo un numero al secondo universo facciamo finta che secondo universo è una stanza e la misuriamo a metri quadri no quindi oggi questa stanza a un tot di metri quadri dammi un numero adesso è proprio in questo momento secondo diverso misura quanti metri quadri diciamo ottocento mila ok nel 2010 quanti ne misurava 3 5 milioni 5 milioni gli ardi milioni 5 5 milioni e oggi 800 mila ok nel medioevo ma all'inizio del medioevo perché mi avevo su un paracchisecoli quello che vedo non riesco a definirlo era molto di più però quanti zero e così 89 12 davanti quindi 12 miliardi va bene quanti sono i diavoli oggi sulla terra è difficile dirlo perché in realtà non stanno sulla terra nel senso lo che vedo è come se stanno cioè vengono tramite dei dei tubi li vedo a forma di tubo ma chiaramente sono passaggi energetici portali arrivano ma hanno poco tempo non possono starci qui quello che vedo è come se la loro energia non potesse essere non è compatibile con la nostra matrice così ecco così come lo vedi come si chiama quello di mica come lo vedi lo vedo piccolo come se fosse altezza gnomo e con una faccia un viso rosso delle corna rosse il corpo tutto di carnagione rossa che ha un sorriso un po in maniera isterica ea e si sta agitando però lo vedo a un uomo stifoso o aurettile o un insetto uomo io lo vedo come un umanoide piccolo ma cioè a forma di uomo però con il viso vito assoluto si dice ok e queste corna che escono i capelli neri e la carnagione rossa rosso fuoco ok con una coda che finisce con un triangolo mira che ama invitare le persone sarà contento di quello che stiamo per fare invitiamo tutte le ps le p e delle persone che oggi sulla terra sono nella sua condizione cioè sono connesse con qualche entità del secondo universo ci sono 800 mila metri quadri oggi vediamo alla fine della sessione quanti ce ne saranno tutte le persone che hanno un diavoletto due diavoletti 3 diavoletti un'entità di qualunque tipo del secondo universo una connessione diretta con nettuno insomma tutte quelle che hanno quel tubo quel canale connesso al secondo universo sono chiamate con uno squillo di trombe proposito di canali usiamo un bel canale bel tubo di metallo quello di trombe tutti a vedere quello che succede terminata oggi ora sono arrivate le ps che hanno questo canale e che sono interferite comunque da dei diavoletti del secondo universo e le vedo come in forma energetica tutte davanti a noi percentualmente quanti sono sul cento per cento della creazione quelli interferiti sono il 60 per cento dal secondo universo quelle che si sono presentate il 37 60 per cento così tanti della metà una connessione corso con universo ok 37 il 37 per cento di quel 60 il 37 per cento del totale un'altra 37 per cento del del di quel 60 i quelli che si sono quelli che sono coinvolti le ferite va bene va bene non è tantissimo ma non è anche poco perché gli altri non si presentano non riescono a accattare quella la sorta di chiamata di informazione che gli stiamo cercando di come se non vibrazionalmente non riescono a passare su su questo tipo di piano come posso spiegare non ce la fanno non riescono neanche se mettiamo loro una tromba accanto che suona per l'eternità e che emette dei suoni che sono di fatto le informazioni delle sessioni aumentate un pochino un po sono mentale quanto un altro 20 per cento 57 ok credo la metà va bene cause di ricadezza serve lo stress di mica è derivante da tutto questo quadretto diciamo interferente a livello proprio di è come se lei avesse la potenzialità che se nel momento in cui si ferma potesse può e apprendere più velocemente cioè mettere in pratica più velocemente determinate informazioni che lei ha appreso che impara sta imparando e che vedo che la sua comunque capacità è molto veloce come se lei fosse se lei legge 10 pagine di un libro di filosofia riesce a capire immediatamente a ripetere già capire il concetto in maniera più veloce io vedo questo quindi viene bloccata c'è questa lotta no come se lei sa che comunque volere potere sa che ha delle capacità in realtà però non riesce non riesce a fermarsi perché il non fermarsi è dovuto a tutto questo quadretto interferente che non gli permettono di prendersi del tempo dei giorni per stare con se stessa e poter creare cambiare qualcosa questo è quello che balla lo sale lo percepisce cioè l'interiormente lo sa quello che stiamo dicendo causa del calo di energia fisica e psichica vedo diverse cose una è la connessione con con il secondo universo e in quanto viene comunque presa dell'energia l'altra è a livello emotivo il discorso che viene studiato comunque la sua bontà chiamiamo per farmi capire e la sua predisposizione all'essere al dare e quindi comunque lei in quel momento in quelle azioni le fanno bene a livello personale perché la fanno sentire comunque bene però è come se nel dare come se da una parte di lei facendolo senza una consapevolezza dell'atto che sta facendo è come se da una parte di energia quindi lei in quel momento l'altra persona si sente meglio non solo a livello fisico perché magari può passare una bella giornata grazie a lei mangiare eccetera ma proprio a livello energetico è come se lei accetta di dare un pezzo della sua energia e l'altra persona si sente meglio e lei a fine situazione si sente svuotata ok c'è una causa esoterica al fatto che normalmente le persone che richiedono una sessione a me non sono collegate al secondo diverso cioè se tu mi hai detto che la connessione sola il 60 per cento di tutti nel totale io dovrei avere il 60 per cento di persone che mi contatta e che ha una connessione con secondo diverso ma così non è quindi è possibile ipotizzare che chi ha un secondo universo sia in qualche modo più lontano meno consapevole più distratto è più pre cioè allora innanzitutto il discorso della dell'interferenza del 60 per cento è dovuto anche a direttamente ok si però è come se c'è anche un disco io vedo un discorso anche di ideologia via del secondo universo per questo te lo volevo dire nel senso comunque non è non è risaputo cioè non c'è la consapevolezza del fatto che il diavolo diavoletti come li vediamo noi sono legati a un qualcosa a un secondo universo ma qui viene presa come anche un discorso angelo angelo demone no c'è il diavolo il famoso quindi a livello c'è tanta energia che viene data anche a questo discorso ok non so se mi sono spiegato ecco che lo vedo così così amplificato a livello diretto di interferenza del secondo universo adesso che vedo non è il 60 per cento è di meno però io nella domanda ho visto il diavolo che è il famoso ok in quel senso domande spot vediamo cosa ti viene il secondo universo è nato secondo per secondo no per primo io vedo come se fosse un perché è nato il secondo universo io vedo come se fosse una non bianco nero c'è una cosa aspetto della dualità esatto esatto sempre anche le voltare sì perché vedo legato al discorso anche religione buona religione buona religione discorso più negativo cioè viene data tanta energia a questa cosa che però perché si sta chiudendo perché non riescono a non è andata come si pensava nel senso non vedo come se quel fosse proprio un tipo di energia un tipo di vibrazione che non è non è affine al nostra nostra energia come doveva andare e quelli di là venivano di qua che si univano se quello che vedo è come se come doveva andare quando mi hai fatto questa domanda io ho visto due universi cioè quindi un po sedone e zeus in collaborazione unica e le parti subliminali che vanno un po di là un po di qua a fare esperienza mentre nella realtà di lano si trovano poi vengono qua no per l'energia l'energia animica non può vivere di là che di là io vedo come se non riesco a vedere la possibilità anche di un corpo fisico a parte che ci sono anche le dimensioni quindi è relativo anche questa cosa perché poi se se mi in alzo è tutto è un po l'inferno l'inferno dantesco dante si è rifatto esatto ma visto il secondo livello dante era un massone o comunque un esoterista assolutamente si aveva una visione del secondo universo ora il passaggio il passaggio sì assolutamente se lui la diretti si direi di sì ma non per molto perché è come se fosse allora è come se è diventato sempre più complicato da qua andare di là da di là venire qua però ci sono ci sono state ci sono anche forse forse adesso no di meno delle dimensioni dei tempi dove comunque questo passaggio inizialmente era più semplice energeticamente più semplice poi è come se ci fosse stata un'evoluzione di energie che l'ha portata a questa separazione totale e però ripeto quello che vedo forte quello dalla mia visione dal mio punto di vista di adesso il secondo diverso universo è come se rappresentasse il diavolo no quindi il male a livello di mente collettiva questo vedo venisse rappresenta anche questo tipo di discorso qui va bene vediamo la la mente collettiva quale connessione amica con la mente collettiva ci sono delle entità mentali connesse a lei ne vedo una un livello molto influisce comunque non troppo però si a livello più alto come tutti c'è questo collegamento però quello che vedo in lei è come se fosse quasi non staccato però poco influente poco se direi però di serlo 23 tra il 23 ok obiettivo l'essere perfezionista fa parte del discorso progetto run vedo questo come se dovesse comunque interferire al di tenerla impegnata di di cercare sempre di arrivare a un obiettivo e non fermarsi c'è lei anche dalle piccole cose oggi decido che stilo tutti questi panni li stiro e sarò felice mi posso riposare no la listira obiettivo raggiunto adesso ne devo ne devo porre un altro questo vedo questo in questo senso come se non fosse sì alla fine e per attività e per attività in questo senso sì beh ma non non riuscire a trovare una soddisfazione in quello che si fa perché la soddisfazione è nel nell'essere sempre impegnati sì più che essere stessi proprio nell'avere sempre da fare sostanza ok come si chiama questa entità queste entità dice rabbit che corre sempre il coniglio di alice essi nel paese delle mena cause esoterica della paura di dormire diverse cose intanto il fatto che lei essendo collegata a questo discorso di dover stare sempre in iperattività è come se ma è una paura indotta da se stessa se io dormo mi fermo perdo tempo quindi se poi mi sveglio e sono troppo stanca non posso riprendere la mia come se si fosse creato proprio a livello fisico un'abitudine e quindi è come se il dormire in dato già di fatto è un fermarsi e quindi automaticamente reduce da tutto quello che abbiamo detto fino adesso ecco è equivale a dire mi siedo il mitatico del tempo per me stessa nella sua mente ok e questo è una ragione e un'altra ragione che vedo è il fatto che comunque lei lei alcune volte come si vede delle cose cioè a livello onirico è come se si staccasse vedesse vedesse qualcosa cioè percepisse a livello la sua anima vede abduction mi sta facendo adesso vedere una scena di entità che non sono collegata a lei ma dove sta dove vive dove lavora quindi è come se la su lei si sia consapevole del fatto che anche se non la riguardano però ci sono delle interferenze che 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 mettono i bastoni tra le ruote quindi lei è come se nel quando sei quando dorme e vedo proprio vedo la scena della sua anima che come se esce fuori guarda con gli occhi eterici e vede delle cose quindi ne ha paura perché non ha ancora compreso ma lo comprenderà molto presto come gestirla questa cosa ecco beh lo stesso la stessa risposta penso che sia per la tendenza non riuscire a mangiare seduta ma sempre di fretta di corsa fa parte della stessa situazione si risposta l'abbiamo già data perfezionista cosa è una perfezionista la vedo legata un discorso più mentale nel senso che è una sua giustificazione perdere tempo nel fare le cose sempre per arrivare a non fermarsi quindi più più so più la rendo perfetta più occupo il mio tempo più sono impegnata più non penso più non mi fermo più non mi posso sedere più devo dormire di meno perché devo dedicarmi di più a perfezionare quello che sto facendo al discorso di renderlo perfetto quindi lei dato lo stesso ragionamento perché per dormire ha iniziato a bere caffè ma in realtà quello che vedo il contrario è la c'è una parte di lei che dice che è legata a un discorso di di sapere collettivo il caffè dovrebbe rendere più svegli quindi lei a livello conscio prende il caffè per dormire ma in realtà sta prendendo il caffè per non dormire perché pensa che forse potrebbe riuscire a dormire di meno in realtà a livello inconscio la vedo così dimostra questo per dormendo di meno può fare più cose e il fumo perché aumentato dalla prenotazione della sessione un interferenza il fumo lo vedo legato agli edl come se l'avessero spinta a creare una dipendenza per essere più assuefatta per arrivare a essere più stanca per arrivare a essere a creare un'altra di vende una dipendenza a livello negativo ma comunque non ha avuto non la vedo questa cosa un po disperata sì esatto infatti non la vedo che continua poi non so chiaramente dipenderà da lei ma io non la vedo ma anche se si fosse resa schiava del fumo alla sessione è arrivata lo stesso quindi non hanno potuto bloccarla in termini di sessione non ora era impossibile generale però quello che vede che proprio la sua anima io in questo momento non vedo la sua anima che mi dice no 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 non potevano già proprio decisa e in generale non si può sappiamo che possono ritardare ma non impedire però no è successo che l'hanno impedita a me è successa un paio di volte che la persona poi si è presentata e di fronte un caso che ricordo con sbigottimento di fronte alla falsa possibilità che questo questa stessi che la sessione che saremmo andati a fare avrebbe potuto causare la fine della sua relazione con un uomo marito compagno fatto totalmente falso ovviamente niente ha rinunciato completamente alla sezione il giorno sì ma è sempre la ps lo permette però io dico da quello che vedono cioè è come se sì alla fine se tu che però decidi di prendere la strada di non farlo per perché dai retta tra virgolette a a quella a quello quello che ti che ti viene proposto come può bene causa del fatto che non ha una relazione e scappa dalle relazioni quegli uomini allora mia mi si è presentata questa scena è come se fosse la vita dell'indiana che sì che però lì aveva il suo c'era un compagno dei figli lei ha sempre passato diverse vite a dedicarsi agli altri a dedicarsi agli altri a dedicarsi agli altri non a se stessa non più di tanto a se stessa quindi non non avesse avuto nemmeno in questa vita la non si fosse mai fermata a dire ok adesso faccio delle cose per me e fare delle cose per lei nel suo caso non in generale questo è quello che vedo in lei è come se avere un rapporto con una fosse un impegno per se stessa per lei che togliesse poi del tempo a a fare altro quindi a dedicarsi agli altri a quel perché il poco tempo che lei ha lo dedica agli altri e poi si dedica a questo run per scappare tra sta se stessa tra virgolette ma la relazione non è un dedicarsi a qualcuno una relazione con qualcosa per sé quindi lei ma solo un punto esatto va bene ottimo bene chiamiamo la sorella e viene una allora è una donna che si presenta in diverse figure è come se stesse scegliendo una modalità più adatta per affrontare questa di scegliere la modalità più adatta ora si presenta come un uomo è come se fosse un'altra vita sua un uomo con una corporatura robusta è come se dice posso questo modo posso affrontare meglio la situazione sono più forte mi sento più forte così come si chiamava questo uomo jack ok perché ha deciso di fare l'esperienza del cancro quello che dice come se lei avesse scelto è come se non avesse compreso qualcosa quindi è come se fosse come se la sua anima avesse detto ok non ci siamo e quindi scelgo una modalità conosciuta con una sorta di sofferenza perché non ha compreso come se ci fosse un qualcosa che che lei non ha compreso quindi la voglia di tornare esatto ok volevo uscire dal gioco ha scelto questo tipo di modalità e dice che vuole tornare basta consapevolezza si tanta consapevolezza uno non vuole tornare esatto fa incontrare le due sorelle chiamano amica psp e la sorella allora adesso la sorella si sono mia si è girata che guarda la sorella guardava l'uomo che si è trasformato in donna in signora con dei capelli castani a dei capelli castani adesso si guardano e è come se è la sorella si stia rendendo conto di quello che sta succedendo che quando l'abbiamo chiamata non capiva ancora che cosa chi era che la chiamava adesso si è resa conto che è la sorella ci sta rendendo conto e si guardano non si stanno guardando e mia gli sta dicendo vedi hai la possibilità di poter se vuoi fare un passo un passo evolutivo prendere delle informazioni per renderti più più consapevole più libera e lei lei lo accetta se lei vuole accetta di stare qui accetta quello che sta dicendo la sorella lei ha molto fiducia la sorella è connessa alla alla terra zone cose posti sì dove a chi io vedo un uomo particolarmente di questa vita non so se un compagno figlio vedo una figura maschile e quali effetti causa in questa figura maschile l'attaccamento del disincarnato paura lei è come se compare va in questa casa vedo una casa e durante determinate situazioni vedo che è come se si ci siano delle perdite di energia utilizza la la luce la delle fonti energetiche è come se cerca di lei attirare l'attenzione ma in realtà crea dei spaventi in questa casa vedo che ci sono anche altre persone non solo però non riesco a capire bene che non conosco cosa non conosce quello che mi sta mi sta facendo vedere sta facendo vedere una casa con una figura maschile però ci sono anche altre persone c'è anche un'altra donna qui però non riesco a comprendere non riesco a definire se si tratta di un compagno di un figlio va bene diamo alla sorella tutte le informazioni che avevo dato a tutti i disincarnati finora ovvero tutte le informazioni di tutte le sessioni fatte da me finora quindi tutto gioco restare attaccate la terra persone cose posti è negativo per lei e per qualcosa cui sono attaccati il suo percorso un altro ed è vento un portale che lei si può aprire staccandosi a contempo da questo uomo da tutto quello che è terreno andando in questo portale le informazioni l'abbiamo passate a lei piacciono le torte dice e quindi abbiamo fatto delle tortine prende fa delle fette le mangia mangia le torte mangia questa torta piena di informazioni se la può mangiare che tutta se vuole l'ha mangiata mangia la torta vuole lasciare un messaggio amico lei dice anche quando io non capivo perché non non riuscivo più a capire quello che tu stavi facendo per me ma io ti sentivo accanto a me anche se a livello fisico non capivo più non c'ero più però la mia parte io lo sapevo che tu lì accanto a me sappi che quando tu mi parlavi io ti sentivo ma anche se sembrava di no volevo dirti questo e poi grazie grazie anche per quello che stai facendo adesso per me bene sabrina facciamo una prova una cosa nuova insegna alla sorella di mica ad alzarsi la frequenza di mio fatto libro allora adesso la vibrazione di a livello energetico a livello di anima è diverso se dovessi dare un numero direi un miliardo ok diciamo la sorella di mica di alzarsela a 10 miliardi no allora mi mostra questa scena si per alzarsi di vibrazione si mostra più come figura maudi diciamo fisionomia umana ma è diventata energia nel momento in cui io ho mostrato come facciamo me lei l'ha fatto è diventata una grandissima forma energetica quindi come se ti fosse diventata come se per innalzarsi dovesse perdere la forma fisica tra virgolette a livello di come la vediamo noi e diventare più energetica e l'ha fatto adesso è come se la vedo come una grande una grande fonte energetica una grande anima proprio grande tutta luminosa gialla che lui con come brillantinata la vedo così è facile è più facile adesso per la sorella aprirsi un portale o più difficile ma che facile molto più facile come lo apre che aspetto al portale cosa c'è di là un tunnel è come se vedo questa forma energetica che si si sposta si è girata e mi mostra un collegamento un tunnel tutto luminoso energetico più che più adatto a lei cioè qui non c'è bisogno di vedere di andare a giocare nelle giostre di andare a cucinare basta è come se passa fosse un tunnel energetico che sia più idoneo al suo tipo di energia di adesso ancora senso per la sorella adesso ricordarsi che è morta di cancro no è una bagianata scomparso esperienza sì però con 10 miliardi è scomparso assinare si già come se lei ragionarci parlarne adesso è come se tutto ha un senso completamente diverso lei mi sta comunicando qui è tutto diverso è tutto più energetico è tutto più a tutto senso e non senso diciamo che prima la sorella andava su una macchina che aveva una marcia sola adesso ha una macchina con dieci marce ed è in decima esatto ok allora la salutiamo sulla sua macchinina sulla sua macchinona attraverso il suo portale dorato è bello che sia automaticamente staccata no dall'uomo solamente è strano perché è difficile spiegare quello che mi sta facendo sentire è come se qui dove sto già io mi sono affacciata io nel suo status è come se tutto in una relativa non ha più una grande importanza nessuno però una sensazione forte lo penso anche io lo sentiamo anche noi però da qui stai piano completamente inspiegabile bello nel senso positivo spiegabile ma è come se ok cioè tutto nativo le sorelle hanno avuto una vita in passato insieme la sorella era la figlia un figlio maschio mi mostra il figlio maschio della di cui lei si è presa cura ok va bene la salutiamo chiudiamo il portale e andiamo alla causa esoterica della non paura della morte di mio e la sua consapevolezza la sua anima la sua piastra sopi e che comunque sanno che non moriranno mai in realtà lei sa che quello che sta affrontando questi passaggio lei ne è consapevole quindi è sa che le persone che incontra oggi fanno parte della sua esperienza conosce il non attaccamento cioè benefici del non attaccamento e quindi auto ma di la sua non paura della morte stiamo parlando di quello esatto si è un attimo secondo seconda sentata con il suo stile di vita nel cui euro sì lei praticamente dicevo non ha una consapevolezza tale la sua ps la sua ps la sua ps sono molto lei sa che la morte non esiste lei sa che praticamente è immortale sa che esiste c'è a mi viene non attaccamento vedo il non attaccamento mi mostra questa parola perché sa che comunque tutto di passaggio ne ha consapevole e automaticamente sa perfettamente che in realtà non muore c'è la sua energia esisterà esiste mortale semplicemente questo quindi sa che il corpo è un involucro di passaggio per fare questa esperienza ok lavoriamo andiamo nel cluster con mica voglio capire se vedi non solo due tipologie di contratti ovvero quelli stretti con le entità mentali ma in questo caso anche contratti stretti con posidone con il secondo universo visto che non è la prima volta appunto per amica vedo questo entità mentali un libro grigio oscuro ciappatti di grigio scuri e secondo primo universo quindi con l'entità di zeus del primo universo vedo dei libri tipici come li conosciamo noi con delle copertine marroni e poi quello che vedo è un una pergamena fatta d'acqua vedo questo legato al discorso del secondo universo tutti questi contratti il può eliminare un colpo solo tutte le connessioni con la mente collettiva e le entità mentali tutte le connessioni con le entità eteriche tutte le connessioni con il secondo universo queste tre tipologie ha fatto subito ha aperto un portale definitivo e la le ha prese con le sue mani energetiche le ha tutte lanciate nel buco tutte insieme ok andiamo subito all'avatar lei veloce perché consapevole quindi quando agli indugi l'avatar si nasconde sotto la scrivania il suo avatar l'avatar lo lo afferra per il braccio come per dire inutile che ti nascondi lo prende prende il computer scrivania sedia ne fa tutto un la cartoccia cartoccia tutto mi lancia in un buco definiti ok intorno ci sono altri avata se vedo come se vedessi un infinito nero e un'infinità di scrivania con avatar tutti in fila con diverse file ma se fosse un universo di avatar non lo so il posto senza spazio nel tempo sì ok questi avatar vedono quello che è successo sono impegnati no è come se quello che sta succedendo riguardasse lei mia quindi loro è come se dicono finché non si rende conto l'anima quale sono collegati soprattutto perché quali sono avatar non sono le ps collegate no no va bene fatte questi due passaggi ci sono ancora quegli impianti che avevo visto le entità eteriche le entità mentali del secondo e terzo livello no vedo sempre nel mentre falla come se fermo la scena la rallento perché lei l'ha fatto molto velocemente nel mentre accartocciava l'avatar e come se tutto si viene quel momento si stacca quindi va via impianti ho visto il diavoletto ho visto le sue righe dl tutto ciò che la riguardava come se lei me l'ha mostrato addirittura come se si è aperta una lampo e si fosse liberata di tutto questo come una tuta ok come se avesse una muta che apre e fosse tutto lì non avesse nemmeno più senso al suo nel suo caso mettersi a pensare quello quella di charlotte tocca il fatto quello che mi fa vedere a quanto vibra adesso mi fa 9 miliardi e mezzo come si trova in che stato è il suo emozionale io lo vedo bello volito sereno in questo momento sereno e anche energetico psp e sono sempre 57 43 ps scesa 52 consapevolezza 153 310 la vita della pelle rossa che viveva nel tp cambiata esiste però mentre mentre parli la vedo la vedevo già è cambiata è cambiata è come se lei in quella no scrive questo stavo vedendo come se avesse cambiando qui è come se cambia anche il parallelismo le vite parallele quindi è come se avendo una vibrazione più alta è una pulizia più profonda qui ma è sempre lei li riporta questa vibrazione questa pulizia emotiva in quella vita e quindi interpreta quello che succede in maniera diversa per esempio adesso mi sta facendo vedere una scena dove lei in quella vita si mette seduta lungo il mare con i suoi figli e guarda le stelle e quindi apprezza per esempio il paesaggio del mare apprezza le stelle e poi scrive scrive le sue emozioni scrive le sue giornate scrive le sue scrive delle cose scrive quello come si sente scrive quello che costituisce quindi è come se ha cambiato il modo di vedere con questa nuova condizione la vita in norvegia pensa più a se stessa anche lì cambia qualcosa ok messaggio finale di mira a se stessa lei dice che ha bisogno di tempo più per sé lei dice che la ps è poco a poco spazio psp e hanno poco spazio vorrebbero comunicare di più con con mia vorrebbero più tempo per loro lei lei sta dicendo io a volte devo prendere appuntamento con te con me con te ho bisogno che tu mi dai più appuntamenti come se dice la consapevolezza se te nasce da me nasce da noi siamo la stessa cosa ma la comunicazione serve altrimenti questa vita la brana la pasta sia labori nella corsa c'è una modalità con cui mica potrebbe prendersi del tempo per sé e mettersi in contatto con la parte sudionale esempio scrivendo cantando disegnando passeggiando per strada passeggiando in un bosco votando guarda il cielo guarda il cielo dice e come si dice di fermarsi e di guardare l'infinito l'infinita per renderti conto di guardare il cielo in quel momento nel mentre riuscirai a fermarti a guardare il cielo in realtà ti fermi e apri la connessione con noi perché guardi verso l'alto perché noi siamo la tua parte più profonda e più innalzata quindi guardando verso l'alto potrai connetterti a noi di più bene come la vedi bene adesso bene ok il 57 per cento di quelli connessi come era lì a secondo diverso è sempre solo il 57 o si sono presentati altri 75 questi tre quarti di quelli che sono connesse secondo universo hanno visto la sessione e quello che ha fatto mi sa che fanno li vedo come seduti in un teatro che che stanno facendo da spettatori per trarre delle conclusioni dopo un film e strano le loro trarranno le loro conclusioni tra un mese domanda finale il secondo diverso che oggi all'inizio sessore abbiamo visto esteso come uno spazio di 800 mila metri quadrati tra un mese quanto sarà esteso 170 mila ma a causa di cosa di questo lavoro no a causa di tanti lavori sta succedendo che stanno succedendo perché c'è come un mentre me lo chiedevi ho visto la le matite ho visto le la pioggia di informazioni ho visto più persone più come se adesso si stanno girando quando io noi siamo facciamo dei lavori mondiali tra virgolette li chiamo così a volte delle visioni di anime che si girano perché si si percepiscono e apprendono e altre che non ci danno letta adesso è come se ho visto tantissime parti subliminali che che come se vengono richiamate come se ci fosse più consapevolezza non lo so però è dovuto a tutto questo tanti lavori che vengono fatti è come se vede un passare di informazioni continuo perché anche altre volte che lasciamo mettiamo delle informazioni che vengono duplicate triplicate passate queste cose come se continuano io vedo che non si fermano le famose sfere che abbiamo messo sono sempre lì le sfere e quello che ho visto è un non so se ricordi mi è venuta la visione adesso che avevamo messo una palla energetica di informazioni sul discorso mentale anche sulla terra che si era pulita uno spicchio e adesso ne vedo un altro per un altro pezzo di spicchio pulito che si è pulito vedevo questo e quindi è dovuto a tutto questo quindi più c'è consapevolezza più le ps prendono le informazioni più si puliscono in qualche maniera di più e più tutto il resto ma chiudersi odino perde le ali quindi stanno rilasco crolla viene viene data meno energia perché loro è l'energia loro vivono grazie all'energia no quindi è come se non hanno più credenza è come se vengono screditati quindi non avendo più l'energia non avendo più tutta questo pensiero nei loro confronti no del loro è come se non hanno più modo di possibilità di stare in piedi questo è quello che è detto va bene sabrina abbiamo finito quindi disconnettiti da tutto e tutti prima di tornare dimmi quando si conta no 30 conto da 15 al 53 il tempo presente dal quale ti sto parlando 1 2 3 4 e 5 aprì di occhi ciao come va bene 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 come stai bene da lo bel mi ha prego attiva pure il tuo microfono lo devi fare tu perché io non posso e toccando lo schermo del telefono vedrai un icona barra per perfetto ci siamo ecco fatto come stai ciao grazie di cuore siete grandi sì è vero è vero pensavo anch'io perché mi sentivo ogni volta che compravo vestiti per la signora che regalavo qualcosa è vero mi sentivo in colpa ma non sapevo colpa di cosa come se non facesse qualcosa di giusto però in realtà lo facevo lo facevo a mio detrimento come se io dovessi sempre lavorare per guadagnare per regalare dai gli altri a me niente 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 a te lucio da dove ti vengono tutte queste idee come fare le cose non lo so è stata una nuova più le fai più ti viene la soluzione come quando ero un bambino molto fantasioso lo dico nella registrazione all'asilo tutti disegnavano il prato la casa il cielo il sole la mamma il papà io disegnavo le balene i grandi disegni di pesci il balene tutte le maestre erano tutte estasiate da questi miei disegni dicevano ma che belli ma che belli facevano vedere mia mamma purtroppo non li ho più mente creativa sì io dicevo ma perché devo disegnare la casa al sole lo disegnano tutti io non voglio disegnare quello che disegnano tutti e quindi disegniamo qualcosa che mi piaceva non so mi piacevano i pesci in quel periodo le balene le balene la bella balena l'universo mia e la grazie in registrazione quindi ti chiedo nella registrazione appunto la pubblichiamo così come no la sessione mi è piaciuto molto il pezzo hai perso cinque secondi lo vedrai poi nella registrazione ma non ti sei niente perché poi l'ho ripetuto e ti mi è piaciuto molto il pezzo di tua di tua sorella perché appunto lì abbiamo inventato una cosa che io applicherei da adesso in poi di alzare le fregazioni internati in modo che non si aprono solo un portale per andare nel nesimo step che si sono decisi ma vadano in uno step avanzato no e più su esatto e poi sabrina è tutta contenta che si è vissuta questa super frequenza e questo io non so vedevo questo tunnel d'oro questo si era molto particolare molto molto forte proprio quasi spiegabile veramente la prima volta che lo vedevi così ma io non lo vedevo liscio vedevo un sacco di cose di come si non so energia che si si comunque sarebbe interessante fare una questione forse proprio noi lo faremo come mantenere il mentale a un punto perché io dico sempre devo essere come l'acqua arrivo punto zero non penso niente e i miei pensieri che vengono li metto in un cassetto e poi brucio l'armadio quando lo sento io pieno ogni pensierino che non è mio non non ha senso per me e così resto neutra sarebbe interessante come insegnare le persone mantenersi a un certo livello di sole però mi va adesso tutto avevi comunque una connessione con delle entità mentali che non hai più questa connessione non c'è più è come dire tu sei connessa alla mente perché sennò non saresti viva o tre esti avere tale che si sporca nuovamente ma è molto difficile che tu vada recuperare una connessione con nuove entità mentali quindi aver tolto la connessione con le entità mentali è come aver risolto il 95 per cento del problema capisci che tornare indietro adesso per te è molto difficile per le entità mentali è un grande lavoro riuscire a cercare di riprenderti capito quindi prima quando delle entità mentali non sapevamo nulla si diceva lavora sul tuo mentale lasciavamo un po il lavoro alla persona adesso invece le stacchiamo le persone delle entità mentali sono staccate eliminiamo i contratti nel cluster delle entità mentali cioè si fa proprio un lavoro preciso e specifico di tagli 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 tutte queste cose tagliate sono difficili da ricostruire per queste forme energetiche che noi chiamiamo entità no quindi è molto se molto più avvantaggiata sei molto più in una volta di fermo questo non vuol dire non di fare niente anzi di fare il tuo percorso capire la tua sessione e lavorarla se avanti quindi non farei fatica ma la possibilità no di tornare dietro c'è sia per tutti ma è molto più difficile molto più difficile è molto più semplice per te adesso al di là di tutte le interferenze che non ti interessano più andare molto più avanti in una direzione che sarà la tua tu desideri sì sì essere sempre consapevole di quello che faccio stare con rispetto verso gli altri e verso di me stessa sì ma non solo ma magari creare nuove situazioni creare nuove prospettive di vita creando i lavori per i posti in cui vivere se questo non ti piace più perché sono solo esempi quelli che io faccio io non posso calarmi nella vita delle persone né dare ovviamente consigli va bene ragazzi ti mando video ovviamente ti mando i documenti per l'autorizzazione alla pubblicazione grazie a tutti e buona serata grazie buona sperata ciao